Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video andremo a dar da mangiare a tutti gli insetti da pasta, quindi alle dubbie, le blatte, alle tarme della farina e ai grilli. Ora vado a prendere le cose e vado a dargli da mangiare. Qui ci sono le dubbia, come avete visto dal video, se l'avete guardato, quello speciale, i miei iscritti sono qua sopra. Qua c'è il gecko ma lo lascio stare. E parliamo delle blatte. Qua come potete vedere, sono là. Gli ho già dato da mangiare le crocchette, qua c'è il cibo per pesci. Quindi queste qua sono a posto. Quindi le lascio stare, dato che hanno già da mangiare, hanno già il cotone umido per bere. E ora dobbiamo fare le tarme e i grilli. E allora, rieccomi qua, prendiamo il tappino dove metto le cose da mangiare ai grilli. Adesso ho aggiornato le crocchette per i cani e adesso vado a dargli le carote. Taglio qualche pezzettino di carota. Le la metto qua, dato che ne ho 336.000. Sapete quanti ne ho se avreste guardato il video? Certo, le butto, vabbè, bastano queste. Sapreste quanti ne ho se avreste guardato il video speciale miei iscritti, ma so che tanti di voi non l'hanno guardato. Quindi andate a guardare il video. Quindi ai grilli do solo questo. Qui ho i box di grilli, che tengo per metà chiuso, che non saltino fuori là nella parte più alta. Ora andiamo a mettere dentro questo. Aspetto un po', ci saranno 38.000 là sopra sulle carote già a mangiare. E ora andiamo a mangiare anche alle tarme. E anche alle tarme andiamo a mangiare delle carote. E ora andiamo a tagliare anche al resto. Guarda che quelle mangiano strada di più. A posto. E tutte queste carote qua bastano anche per le tarme. Ora che qua ho le tarme, vado a lasciare un po' di carote qua in centro. Gli metto una qua dietro dove ci sono quelle. Gli metto una qua sopra. Andiamo a vedere quelle qua sotto. Gli lascio una carota qua. E le vado a mettere anche quelle che sono sotto di qua. Così tutte le tarme sono a posto, hanno da mangiare. A posto. Fatto tutto. Quindi allora, questo video finisce qua. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Lasciate like a questo video. E guardate gli altri video del canale. Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica. Lasciate un commento a questo video. E condividete il canale a chi può interessare. E di iscriversi. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video sempre qui sul mio canale.